salve il popolo dell'internet e bentornati a pinte di storia inutile girarci attorno abbiamo di nuovo litigato con la francia e che novità per dirla come si direbbe in un famoso social network con i francesi siamo un po in una relazione complicata decisamente inutile stare a girarci attorno da questo punto di vista però diciamo che la storia ce ne ha dati di episodi non se ne parla tanto dei tradizionali buoni rapporti tra i francesi pardon come? quali tradizionali buoni rapporti? di tradizionale signori miei ci sono soltanto questo tipo di episodi tra Italia e Francia baruffe, liti, piccoli dispetti di tradizionale c'è solo questo altro che buoni rapporti va bene forse è il caso di discutere un po' discutiamone salve va bene non la facciamo troppo lunga riprendiamo il discorso da quando è nato lo stato nazionale italiano effettivamente se la prendiamo da Carlo VIII e dal medioevo è un po' lunga ma vi garantisco che gli ultimi 158 anni di rapporti Italia-Francia sono più che sufficienti l'Italia è nata grazie a una vittoria francese quella di Solferino nel 1859 quando il rene di Sardegna Piemonte era alleato della Francia e ha completato il suo processo di unificazione nazionale nel 1870 con una sconfitta francese quella di Sedan che poi è detta il via libera al Reino d'Italia per annettersi la capitale Roma ma possiamo anche andare al Teo anche oltre abbiamo litigato praticamente per tutto nel 1881 c'è stato il famoso schiaffo di Tunisi quando la Francia ha sottratto Tunisi all'Italia dove c'era tra l'altro una grossissima colonia di italiani che era la più grande etnia del paese non araba poi abbiamo litigato anche per motivi politici quando i caricaturisti francesi disegnarono Crispi che lucidava le scarpe a Bismarck il nostro Crispi ha risposto dichiarando guerra doganale alla Francia siamo solo all'Ottocento non posso immaginare quello che succederà c'è da dire che quantomeno Italia e Francia sono raramente ricorse alla guerra in queste dispute ci siamo voluti bene a sufficienza tranne che nel 1940 come si diceva prima però già nel 1912 mentre l'Italia era impegnata in Libia c'era il timore che i francesi come già avevano fatto quando noi stavamo provando a conquistare la Libia l'Etiopia scusate nel tardo ottocento aiutassero i ribelli e quindi hanno cominciato l'Italiano a bloccare le navi francesi nel Mediterraneo nel tardo novecento quando per esempio la Fiat negli anni sessanta acquisì grossa parte della Citroën lì i francesi non la presero proprio benissimo e cercarono di far mollare l'osso ad Agnelli ci sono poi state tutta una serie di baruffe di liti tra Italia e Francia una delle più importanti è stata quella che vide coinvolto il presidente francese dell'epoca Giscard d'Esten che sostanzialmente propose quello che oggi è conosciuto come il G7 il G8 o il G20 che è stato proprio allargato un governatorato mondiale economico ma l'Italia non era invitata noi siamo riusciti a entrare in quello che era il G7 dell'epoca grazie ai buoni uffici degli Stati Uniti ci sono stati però due personaggi un italiano e un francese che hanno collaborato tra loro ovvero Alcide De Gasperi e Robert Schumann che tra l'altro se le intendevano entrambi perché in sostanzialmente parlavano tedesco infatti De Gasperi e Trentino e Schumann è alsaziano quindi mezzo tedesco in sostanza diciamo che abbiamo avuto anche dei buoni rapporti culturali noi con i francesi te lo concedo, te lo concedo è vero va bene Michele grazie per queste interessanti informazioni ci vorresti dare qualche indicazione da magari per approfondire per i nostri follower certo certo vi inserisco qua giù nell'info box tre link di approfondimento per quanto riguarda la bibliografia beh un qualsiasi buon manuale di storia contemporanea va più che bene quindi scelta vostra e vi ricordiamo di seguirci sul nostro canale youtube e sui nostri profili social facebook ed instagram e soprattutto sul nostro sito ok salute salute grazie a tutti grazie a tutti